Oggi andremo a realizzare insieme degli sticker, etichette, biglietti da visita, tutto fatto a mano. Le cose che andrò ad utilizzare sono in realtà semplicissime. Quindi, dopo aver realizzato i miei loghi e il mio biglietto da visita su Photoshop, semplicemente, quello che andrò a fare sono delle fotocopie. Gli sticker li farò stampare su carta adesiva, mentre biglietti da visita su comune cartoncino. Ogni fotocopia ha il prezzo di 70 centesimi. Poi, dal negozio cinese di fiducia, mi sono procurato questo, che non è altro che carta adesiva trasparente in PVC, al prezzo di 1,80 euro. Ho visto tanti tutorial su YouTube dove soltanto la carta costa 11 euro e onestamente vi costa di meno farvela fare in tipografia, in copisteria, a livello professionale. A livello bistico, se ci devi smenare 11 euro, insomma, ci sono opzioni professionali che ti costano molto meno. Molto meno. Questa, invece, è la versione economica. Se vogliamo di Wish, se vogliamo no... Il fatto sta che questi adesivi li avete già visti in bianco e nero sul mio canale, li ho applicati su altri progetti, durano da tre anni, quindi il progetto è più che testato ed è più che valido, è economico, quindi andiamo alla realizzazione, semplicissima. Una cosa che è proprio ad occhi chiusi. Dunque, per prima cosa andremo a rivestire gli sticker, quindi ho ritagliato la carta della misura adeguata, e ora procederò in questo modo. Ovviamente lasciatevi un po' più larghi sui due lati, così da fare un lavoro preciso. Se avete paura di sbagliare, visto che se sbagliate rovinate gli sticker, procedete a pezzettini. Io voglio provare sul foglio intero, tanto se va male, taglio la parte e non la vedrete mai! Però, insomma, è facile, basta andare piano piano, ora vi faccio vedere bene come procedere. Ho spellato leggermente la pellicola, aiutandomi col bordo del tavolo l'ho applicata, incollata proprio, per avere una linea dritta il più possibile. Ora vado a posizionare il foglio sempre dritto, ovviamente ci saranno degli eccessi, quindi si incollerà al tavolo e mi beccherà pure il foglio. E con l'ausilio della tessera specifica per questi lavori andrò a distendere la pellicola sopra. Vediamo se ci riesco. Se ci riesco mi merito pure un like. E ora procediamo al taglio. O con un tagliacarta o con una bella forbice per l'editing dei video. Allora può capitare che durante la procedura di stesura delle bolle si infilino all'interno. in questo caso perché prima ho fatto lo scemo a sovrapporre i fogli e quindi avendolo realzato qua si è andata a staccare. Non buttate il pezzo, semplicemente giratelo al contrario e stendetelo nuovamente con la vostra tessera. In questo modo andrà ad aderire e come potete vedere ora ci si riflette. Non c'è più l'area sotto. Risolto. Veloce. Questi pezzi qua li taglio meno precisi per il semplice fatto che ogni volta che li andrò ad utilizzare li taglierò l'ettagono. Quindi sì, è un lavoraccio ma... eh... si fa... sì. Allora non li ho ritagliati tutti perché sono davvero piccoli e poi mi son detto ehi non li utilizzerò tutti subito. Quindi li ho lasciati così. Almeno non li perdo. So che li ho sempre a portata di mano e quando mi serve mi ritaglio quello che mi serve. Questi qua penso che li spammerò in giro tipo sotto i tavoli come le calcole. Vediamo. Ecco qua abbiamo una piccola nota dolente perché praticamente mi sono accorto che questo qua è troppo spessorato. Quindi quello che volevo fare era semplicemente prendere questo foglio visto che è di granulometria 150 grammi e incollarci dietro un altro cattoncino a contrasto. In maniera tale da creare un biglietto da visita da 300 grammi e finirla lì. Quello che andrò a fare è semplicemente ritagliarli e utilizzarli ugualmente. Con i bigliettini da visita ho già fatto delle esperienze in passato e mi sento di consigliarvi il sito di Pixar Printing. L'ho già utilizzato, so per certo che funziona molto bene, ha una vasta scelta, ha delle offerte molto competitive sul mercato e inoltre dal punto di vista umano avendo io sbagliato la prima volta nella realizzazione dei bigliettini mi hanno dato una grandissima mano rifacendo la stampa anche se per mia colpa non avevo selezionato l'assistenza. Quindi consigliatissimo questo sito. Quindi procedo normalmente a ritagliarli e vi faccio vedere tutto realizzato. Ed ecco i fatti. Spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci rivediamo presto con un nuovo contenuto ma nel frattempo ti invito a girare sul mio canale. Tratto davvero tanti argomenti e mi piacerebbe sapere cosa ne pensi del mio operato. Ricordati di lasciarmi un like, di iscriverti al canale perché mi supporta davvero molto e consiglia questo video a qualcuno, se pensi, possa ritornargli utile. Continua la visione. Ciao! YouTube iscriviti Ciao! 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 Ciao!